Pesero Capitale Italiana della Cultura 2024 dà vita anche al progetto In Cucina, un'iniziativa di Comune Amat per un progetto che si svilupperà fino a dicembre in un ciclo di 10 cene sociali denominato Indovina chi prepara la cena, abbinato alla proposta di tre spettacoli teatrali. Casa Bucci sarà la sede delle cene e l'abirinto cooperativa sociale offrirà un'esperienza conviviale dove i cucinieri protagonisti delle serate racconteranno ai partecipanti le loro storie attraverso vari menu. Si inizia il 15 aprile con la prima cena a Casa Bucci. Un progetto pensato anche in modo visionario perché quando ne abbiamo cominciato a parlare ancora a Casa Bucci non esisteva, era ancora un'altra cosa. Però eccoci qua molto fieri di esserci arrivati, il lunedì prossimo cominceremo con la prima cena e qui già mi contraddico da sola, non bisogna chiamarle cene, non sono delle cene, è un dinner club interculturale, è un momento in cui sì che si mangerà ma attraverso il cibo passerà molto altro, molto altro che può essere piacevole ma anche spiacevole perché racconteremo storie di immigrazione, storie di inserimenti difficoltosi, storie di comunità e tante altre storie non necessariamente tutte diciamo così pesanti però sicuramente sempre con lo spirito veniteci, prenotate ma ripeto sempre con lo spirito di partecipare a qualcosa che è molto di più di una cena. Come cooperativa Labirinto dopo 40 anni che siamo su questo territorio, questo progetto l'indovina che prepara la cena ci dà l'opportunità di raccontare delle storie, raccontare le storie dei nostri servizi sia a livello culturale che sociale, è un impegno bello e importante perché ci permette di creare un luogo di socialità con la città, di narrare quelle che sono delle storie importanti, difficili magari da affrontare, interessanti ma nel clima gioviale della convivialità ci aspettiamo proprio che ci sia un momento di condivisione dove anche gli stereotipi, dove anche le paure vengono un po' diminuite in favore invece di una apertura, di una trasparenza anche nel condividere determinate storie. Il format che abbiamo pensato è una restituzione al territorio di quanto il centro per le famiglie appena avviato nel comune di Urbino sta già diventando testimonial di comunità educante perché riteniamo fortemente che le sfide educative siano da viversi insieme ai fruttori che ad oggi non sono solo i bambini ma sono gli adulti, gli adulti educanti in tutte le varie forme di famiglia possibile. A completare il tutto tre cene teatrali fra novembre e dicembre ovvero teatro da mangiare del Teatro delle Rette, pasticceri di Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e cena sul ring di The Factions. In cucina è stata una sfida lanciata dal comune di Pesaro e dal direttore artistico Agostino Ritano abbiamo davvero coprogettato delle attività, nello specifico in questo caso è una programmazione di eventi tra teatro e musica che si svolgeranno a fine anno.